Sei campano? Hai voglia di risparmiare senza però rinunciare alla qualità? Ristoranti, viaggi, benessere, promozioni e tanti prodotti! Napoli Ideal è la prima community che ripartisce i guadagni tra tutti gli utenti registrati attraverso Ideal Points, acquisto di un amico, condivisione social, nuovo acquisto, nuovo commento, nuovo voto! Cosa aspetti a registrarti? L'iscrizione è gratuita! www.napolideal.it Risparmiare non è mai stato così facile!